Una lunga conversazione animata da domande e risposte e protrattasi oltre il programma previsto. Incontrando nella cattedrale di San Lorenzo la Chiesa Ligure in tutte le sue espressioni poliedriche, Papa Francesco ha dato alcune pratiche indicazioni per proseguire con coraggio nell'annuncio del Vangelo, nonostante le difficoltà del mondo contemporaneo. Certo i problemi non sono pochi, ma è importante anche imparare dai propri errori per dare poi risposte che non siano riduttive ma creative, anche pensando alle crisi delle vocazioni. Bisogna avere l'audacia di andare in tutte le periferie, anche quelle esistenziali, ha proseguito il Pontefice con spirito di diocesanità e senza mai stancarsi. Gesù infatti trascorreva la maggior parte del tempo per strada tra la gente, preferendo i rapporti alle strutture. I discepoli del Figlio di Dio, soprattutto quanti hanno consacrato tutta la propria vita a questa missione, non possono essere statici e avere sempre tutto in ordine. Una vita strutturata non è una vita cristiana, aperta alle sorprese di Dio, e i sacerdoti devono lasciarsi stancare dalla gente, perché nell'incontro c'è anche la condivisione. A tutti Papa Bergoglio ha ricordato che solo Gesù è il vero Salvatore e che una vera testimonianza del suo amore può cambiare il mondo e scalfire l'abbattimento esistenziale, benedicendo i presenti. Il successore di Pietro ha infine chiesto di non cedere mai al chiacchiericcio, perché quando non c'è fratellanza sacerdotale c'è il tradimento, tanto da arrivare a vendere il proprio fratello. Grazie. 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 Grazie.